Itinerari scientifici, passeggiate tematiche, visite al museo, laboratori, ma anche l'aperitivo galileiano. Con un mese di iniziative, Firenze festeggia e rende omaggio a Galileo Galilei in occasione dell'anniversario della nascita del grande scienziato. Iniziative tante, vaste, che mirano a coinvolgere un pubblico sempre più ampio, con visite guidate, attività per le famiglie e per i bambini, improntato appunto alla cultura e alla divulgazione scientifica, cosa per noi fondamentale per la valorizzazione complessiva del nostro patrimonio museale e culturale, che è senz'altro appunto quello scientifico, un elemento di grande forza all'interno della nostra regione, per forza, per storia e per attualità. Sarà possibile, grazie alla collaborazione del Museo della Matematica, del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, della Fondazione Scienze e Tecnica, dell'Associazione Caffè Scienza e del Museo Galileo, vivere esperienze che non sono mai state fatte. Per esempio, si potrà passeggiare guidati per le strade della città, non nei musei, ma per le strade, esplorando quanta scienza è depositata nella città stessa, una scienza che sfugge, una scienza che rimane nascosta. Si potrà anche visitare i musei in maniera intelligente, accompagnati da animatori che raccontano storie che hanno a che fare con Galileo e più in generale con la scienza moderna. Si potrà anche festeggiare il compleanno di Galileo, partecipando a delle manifestazioni nelle quali si potrà anche capire qual era il clima, il modo di cucinare e di mangiare all'epoca di Galileo.